Denis Dosio, tre segreti su di lui quanto guadagna, ex fidanzate e il suo sogno. Pael Secchione Show, Denis Dosio e la sua attività su YouTube, Instagram, online fans quanto guadagna? Denis Dosio è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti di quest'ultima edizione della Pupa e il Secchione Show. Infatti il giovane influencer, grazie alla sua innata simpatia, ha già conquistato la maggior parte dei telespettatori. Per chi non lo sapesse quest'ultimo è diventato molto famoso grazie ai social e alle sue partecipazioni in TV da Barbara D'Orso. Oltre al fatto di aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In tanti adesso si staranno chiedendo quanto guadagna Denis Dosio sui social? In base ai dati raccolti dal portale web. Itil giovane, grazie alla sua attività su online fans, è riuscito a guadagnare anche 15. 000 dollari in un solo giorno. Denis Dosio non può lamentarsi nemmeno per quanta riguarda i guadagni legati alle sue attività su YouTube e Instagram. Denis Dosio concorrente della Pupa e il Secchione Show. Chi sono le sue ex fidanzate? Denis Dosio è fidanzato? Il ragazzo, prima del suo approdo alla Pupa e il Secchione Show. Rivelato al magazine Novella 2000 di essere al momento singole alla ricerca della sua anima gemella. Ma chi sono le ex fidanzate di Denis Dosio? Il giovane influencer, il quale è sempre al centro del gossip, ha avuto una storia con la sua collega Aurora Celli. Denis Dosio è poi stato insieme a Asia Buschantella, che è diventata molto popolare grazie alla sua partecipazione al reality di Rai 2, il collegio. Denis Dosio non lo nasconde, ecco qual è il mio più grande sogno. Qual è il grande sogno di Denis Dosio? Il giovane influencer della Pupa e il Secchione Show di Barbara D'Orso. Non ha mai fatto mistero che il suo sogno nel cassetto è quello di sentire urlare il suo nome per strada dalle sue tante fan. Denis Dosio ha anche rivelato che in futuro vorrebbe tanto diventare un cantante di successo. La Pupa e il Secchione Show, Denis Dosio e la sua attività su YouTube, Instagram, online fans quanto guadagna? Denis Dosio è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti di quest'ultima edizione della Pupa e il Secchione Show. Infatti il giovane influencer, grazie alla sua innata simpatia, ha già conquistato la maggior parte dei telespettatori. Per chi non lo sapesse quest'ultimo è diventato molto famoso grazie ai social e alle sue partecipazioni in TV da Barbara D'Orso. Oltre al fatto di aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello VIP. In tanti adesso si staranno chiedendo quanto guadagna Denis Dosio sui social? In base ai dati raccolti dal portale web. Giovane, grazie alla sua attività su online fans, è riuscito a guadagnare anche 15. Ero 0 0 dollari in un solo giorno. Denis Dosio non può lamentarsi nemmeno per quanto riguarda i guadagni legati alle sue attività su YouTube e Instagram. Denis Dosio concorrente della Pupa e il Secchione Show. Chi sono le sue ex fidanzate? Denis Dosio è fidanzato? Il ragazzo, prima del suo approdo alla Pupa e il Secchione Show. Rivelato al magazine Novella 2000 di essere al momento singole alla ricerca della sua anima gemella. Chi sono le ex fidanzate di Denis Dosio? Il giovane influencer, il quale è sempre al centro del gossip, ha avuto una storia con la sua collega Aurora Celli. Denis Dosio è poi stato insieme a Asia Busciantella, che è diventata molto popolare grazie alla sua partecipazione al reality di Rai 2, il collegio. Denis Dosio non lo nasconde, ecco qual è il mio più grande sogno. Qual è il grande sogno di Denis Dosio? Il giovane influencer della Pupa e il Secchione Show di Barbara D'Orso. Non ha mai fatto mistero che il suo sogno nel cassetto è quello di sentire urlare il suo nome per strada dalle sue tante fan. Denis Dosio ha anche rivelato che in futuro vorrebbe tanto diventare un cantante di successo. Pupa e il Secchione Show, Denis Dosio e la sua attività su YouTube, Instagram, online fans quanto guadagna? Denis Dosio è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti di quest'ultima edizione della Pupa e il Secchione Show. Atti il giovane influencer, grazie alla sua innata simpatia, ha già conquistato la maggior parte dei telespettatori. Se non lo sapesse quest'ultimo è diventato molto famoso grazie ai social e alle sue partecipazioni in TV da Barbara D'Orso. Grazie al fatto di aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello VIP. In tanti adesso si staranno chiedendo quanto guadagna Denis Dosio sui social? In base ai dati raccolti dal portale web. Itil Giovane, grazie alla sua attività su online fans, è riuscito a guadagnare anche 15. 000 dollari in un solo giorno. Denis Dosio non può lamentarsi nemmeno per quanta riguarda i guadagni legati alle sue attività su YouTube e Instagram. Denis Dosio concorrente della Pupa e il Secchione Show. Chi sono le sue ex fidanzate? Denis Dosio è fidanzato? Il ragazzo, prima del suo approdo alla Pupa e il Secchione Show. Delato al magazine Novella 2000 di essere al momento singole alla ricerca della sua anima gemella. Ma chi sono le ex fidanzate di Denis Dosio? Il giovane influencer, il quale è sempre al centro del gossip, ha avuto una storia con la sua collega Aurora Celli. Denis Dosio è poi stato insieme a Asia Buschantella, che è diventata molto popolare grazie alla sua partecipazione al reality di Rai 2, il collegio. Denis Dosio non lo nasconde, ecco qual è il mio più grande sogno. Qual è il grande sogno di Denis Dosio? Il giovane influencer della Pupa e il secchione show di Barbara D'Urso. Non ha mai fatto mistero che il suo sogno nel cassetto è quello di sentire urlare il suo nome per strada dalle sue tante fan. Denis Dosio ha anche rivelato che in futuro vorrebbe tanto diventare un cantante di successo.